Andrea Mura, Vento di Sardegna torna in acqua e la prima regata della stagione è la Roma per due, Roma per uno in questo caso perché la fa in solitario. Le tue aspettative per questa regata e un po' per tutta la stagione? Le aspettative sono sempre quelle di fare il meglio possibile, è una bella partecipazione, sono 64 barche mi sembra quindi credo sia anche un record, nella mia categoria siamo in pochi però buoni, c'è Giancarlo Pedotto che va una barca più piccola ma più leggera, molto performante quindi alla fine a prestazione mi sa che siamo molto simili, in alcune forse va più lui, in altre vado più io, per cui sarà comunque interessante e divertente questo derby. Come si confermano, come si trovano le motivazioni per una barca così datata e leggendaria come l'abbiamo più volte definita, ripartire nuovamente sempre con altre motivazioni? È una bella domanda, non è facile, non è facile perché ho passato parecchi mesi in grande sofferenza dove ti passa veramente la voglia di fare qualunque cosa perché dopo che hai vissuto quel sogno, l'hai toccato con mano, era lì ormai pronto, era tuo dopo un anno che ci lavori quindi non soltanto una chiacchierata ma di fatto tutta una squadra che ha lavorato per lungo tempo, non si può descrivere quanto faccia male. Però, come si suol dire, la vita va avanti, bisogna alla fine la forza del mare e l'amore per il mare richiama sempre. Dopo un po' di break, alcuni mesi ho passato dall'autunno senza navigare, dedicandomi un po' ad altro per staccare un attimo, piano piano, lo sapevo, insomma, alle soluzioni di tempo mi è tornato la voglia. Quindi ho messo la barca a terra, abbiamo fatto i lavori, poi ho trovato tanti nuovi aiuti, ho messo su una bella squadra di persone tra cui questi ragazzi pregiudicati in capo alla giustizia e minorenni ed è un bel progetto e sono venuti, hanno lavorato in barca senza averla mai vista, voglio dire, però hanno fatto quello che potevano. Non fosse anche lucidare gli acciai, pulire il ponte, pulire per terra, riorganizzare le cose, veramente bravi. Poi quando c'era da prendere una chiave inglese o riconoscere un dado, quelli erano bravissimi, un cacciavite in mano, ma si scherzava, voglio dire, con loro. Dei ragazzi che vogliono dimostrare di poter riscattarsi e noi cerchiamo di aiutarli per fargli anche capire che si può vivere senza rubare. Questo è l'obiettivo. Per cui voglio dire, uno scambio molto molto bello, molto umano, come piace a me. E poi dà vita anche al progetto della rotta della legalità, mi sembra, no? Assolutamente sì. Loro hanno navigato, adesso navigheranno ancora con me, parteciperanno alla 151 Miglia, tra l'altro su un'altra barca, quindi comunque saremmo assieme perché penso di farlo anch'io. Penso che in questa ricerca di motivazioni però conti anche il fatto di aver trovato tanti amici, mi riferisco a Ubiquiti, mi riferisco a chi ti segue. E poi tanto anche al tuo pubblico, perché insomma non va dimenticato, noi lo vediamo, no? Seguendoti come giornalisti, quando pubblichiamo qualcosa di tuo c'è sempre tanto seguito, Andrea, quindi evidentemente anche i tuoi fans ti spingono un pochino, no? In queste stagioni in cui si riparte ogni volta. È verissimo, mi fa molto piacere che me lo fai notare perché è vero anche questo. Tutte le persone che mi stanno intorno, che mi vogliono bene, sono tantissime. Mi hanno comunque sostenuto, hanno sostenuto quello che è successo con l'Imoca e questo ha fatto tanto. Nel tempo comunque ti dà la... è un'altra motivazione. Però al fine questa barca c'è, è comunque un privilegio averla, è un privilegio avere questa barca, è un privilegio avere uno sponsor come Ubiquiti, quindi avere due cose che ti permettono di portare avanti l'attività. Pensa che, insomma, alla fine in Italia non siamo in tanti ad avere questa. Chi ha la barca e non ha i soldi o chi magari ha un po' di soldi e non ha la barca, avere tutti e due, riuscire al minimo a fare dell'attività, comunque per me va benissimo, in attesa di, speriamo sempre di poter fare qualcosa di diverso, crescere ancora. Non vorrei dire che sarà domani un'Imoca perché ci credo molto poco ormai, voglio dire, i costi sono iperbolici per chiunque e l'Italia ancora, secondo me, è troppo lontana, però questo non vuol dire non crederci, vuol dire, cioè, vuol dire crederci poco ma sperarci molto, ecco, mi correggo. Dopo la Roma per uno, dove vedremo vento di Sardegna? Tornerò, la riporterò a Cagliari, parteciperò il 7-8 maggio alla Vela Solidale Sardegna, quindi la barca sarà piena di bambini autistici e spinebifide e faremo questa veleggiata da Cagliari a Villassimius, molto simpatica, per far vivere a questi bambini una bellissima giornata diversa, loro quando saranno a bordo cantano, li premieremo sul podio e poi partirò, penso, per la 151 mila, anzi, proprio inedita inedita, mi hanno invitato questa mattina per partecipare sull'ultimo Class 40 a Varato, a Semalò, la Semalò Plymouth, che parte il 23 ed è in equipaggio giusto prima della The Transat. Stavo cercando, insomma, un modo per andare a provare questa barca e mi hanno invitato a partecipare su, per cui il 23 sarò a Semalò sulla mia partenza su questo Class 40 nuovo di pacca, che ancora, i 40 non li conosco ancora tantissimo, ci sto lavorando perché spero di poterne costruire uno nuovo, vediamo, se no, comunque, diciamo che la base c'è, che è vento di Sardegna. Benissimo, buonissimo vento a vento di Sardegna, Andrea Mura. Grazie, grazie anche a voi. Ciao.